Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Fat Channel XT contenuto all'interno di Studio One 4, ossia una channel strip completa che ci permette di missare in maniera semplice e veloce tutte le tracce audio. Ho in questo momento mixato la voce di Giorgia all'interno di un brano utilizzando il compressore Tube P1D. Non incluso in Studio One 4 ma acquistabile separatamente con un pacchetto di aggiornamento del Fat Channel. Il Fat Channel è suddiviso in tre sezioni principali. La prima dove troviamo il Gate e l'Ipass Filter, il compressore posto al centro e l'equalizzatore posto in coda. Le due sezioni possono essere invertite con il pulsante di swapping. In questo modo è più semplice per chi preferisce comprimere la voce post-equalizzazione switchare le due posizioni. Le sezioni possono essere accese o spente indipendentemente o visualizzate indipendentemente. In questo modo possiamo vedere in maniera singola ciò che ci occorre o nel sistema esploso dell'interfaccia. L'Ipass Filter serve appunto per tagliare alcune frequenze sull'equalizzatore in maniera da non influenzare soprattutto alcune delle parti, nel caso della voce, le parti basse che la voce non sfrutta e sfruttare le quattro bande dell'equalizzatore per lavorare indipendentemente. Il Gate ci permette di chiudere il sound della traccia nel momento in cui una certa soglia viene colpita per cui quando avremo una soglia vicina al meno 70-60 la traccia audio verrà automaticamente chiusa. Questo serve per eliminare spesso i ritorni in cuffia della base oppure anche i respiri o i rumori più bassi che il microfono percepisce durante la registrazione. Come un compressore utilizza l'attacco e il rilascio l'equalizzatore dispone di quattro bande separate. Oltre alla regolazione fine, la dell'i-pass filter che troviamo qui al lato e che influenza appunto la parte bassa dell'equalizzatore. Abbiamo un low frequency, low mid frequency, high mid frequency e high frequencies. Oltre all'i-shelving che possiamo lavorare in questo modo. Nel caso specifico sto utilizzando l'equalizzatore incluso all'interno di Studio One e quindi originale del Fat Channel. Ma con il pacchetto Fat Channels possiamo scegliere anche altri tipi di equalizzatori che ricalcano la timbrica delle macchine hardware emulate. Ad esempio possiamo lavorare con un equalizzatore passivo. Oppure quello vintage simile al Neve o la versione al Pine, i Baxdel, quello di serie dell'RC500, la versione Solar, la versione Tube, sempre respirata alla tecnologia di TubeTech, i VT1 e il Vintage 3-Band. Questi tipi di equalizzatori ci permettono appunto una scelta timbrica all'interno dell'equalizzazione stessa. Ovviamente i nomi originali delle macchine non possono essere utilizzati per cui avremo sempre una sorta di emulazione anche nel nome. Stesso discorso per quanto riguarda i compressori. Quindi possiamo passare dal Tube che sto utilizzando in questo momento allo standard che viene fornito di serie che funziona sugli stessi identici principi. Quindi il threshold, il momento di intervento del compressore, la quantità di rapporto di compressione, l'attacco e rilascio ed il gain di recupero per la parte appunto compressa e che viene quindi schiacciata di volume. Anche in questo caso abbiamo un equalizzatore FET simile all'1176, il BRIT che richiama il compressore dell'SSL, il Classic Comp che richiama quello del NIV, il compressore simile al 160, l'emulazione della versione Teletronix, l'emulazione del compressore Firechild, quello contenuto all'interno dei mixer di Presonus, il Tube che sto usando in questo momento e il V1 Comp VT1. Come possiamo ascoltare la qualità è molto buona e possono essere anche richiamati per chi possiede i mixer di Presonus all'interno del mixer stesso. Quindi questi pacchetti di plugin vengono poi inseriti anche all'interno del mixer e quindi possono essere richiamati sia dalla Doh sia dal mixer o per chi ha la Doh utilizzare Studio One con questi plugin indipendentemente dal mixer. Vi consiglio sempre di acquistare questi pacchetti e ovviamente le versioni software direttamente da MIDI Music perché la scontistica è superiore all'acquisto diretto online sul sito Presonus. In ultima analisi abbiamo il limiter che appunto schiaccia alcuni picchi nella parte dove appunto in questo caso Giorgia canta più dinamicamente. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a presto! Ciao a presto!